Musica Buonasera e ben ritrovati in studio con le notizie della redazione di Venezia. È stata affidata la gestione della nuova piscina di Marghera all'esito della valutazione primo in graduatoria. È stato RTI composto da Stile Libero, SSS, ASD, Bissuola Nuoto, Fiseo Sport, Terraglio, OpenFit, Mestrina Nuoto e Sara Onlus. Questo gruppo gestirà per nove anni la piscina pagando anche un canone annuo di 10.000 euro. Poi per i primi quattro anni pagherà il comune una quota delle utenze. Grande soddisfazione da parte anche delle istituzioni e di tutti i cittadini. Il sindaco di Cintocao Maggiore Gianluca Falcomer è stato riconfermato alla guida della conferenza dei sindaci del Veneto orientale. 22 comuni per un'area di 1.139,85 km2, scusate il 46% del territorio provinciale. La conferenza dei sindaci è il punto di riferimento per le iniziative riguardanti lo sviluppo economico e sociale del territorio con compiti anche di indirizzo e promozione ma anche di pareri per interventi di competenza regionale di carattere infrastrutturale. Prossima tappa domani al Quirinale per il tratto mancante dell'A4. E' nato l'evento Mestre Book Fest, evento letterario che è stato promosso da ConfCommercio Mestre dal Comune di Venezia in collaborazione con Vela. Si svolgerà dal 7 al 18 di giugno e l'obiettivo è quello di portare i cittadini a vivere il centro di Mestre coinvolgendo librerie e attività commerciali. Un patto tra imprese agroalimentarie e turistiche per sviluppare un nuovo turismo enogastronomico. Sentiamo. E' questa la sfida che ha unito ben 36 imprenditori del settore agricolo, dell'artigianato, delle industrie alimentari, dell'hotellerie e ristorazione ma anche del settore dell'intermediazione e dei servizi turistici perché il Veneto è leader in Italia e in Europa anche per l'enogastronomia. Occorre presentare al mondo la cosiddetta Land of Venice o non ancora visitata come meriterebbe. Ecco allora il progetto Taste Veneto nato per colmare questa lacuna. Un disegno di percorsi esperienziali enogastronomici multisensoriali attraverso aziende, cantine, frantoi, distillerie e persino produttori di caviali. Il tutto molto smart grazie alla creazione di un'app digitale con apposita app. Dobbiamo uscire nel mercato, dobbiamo confrontarci e adattare il nostro prodotto all'esigenza del mercato. Questo faremo. Sul lab digitale dovremmo dare, rendere fruibile la grande informazione che c'è sul settore del turismo e turismo enogastronomico in particolare però fruibile a 360 gradi durante tutto il periodo che si chiama customer journey del turista da quando lo sogna a quando lo compra, a quando lo vive, a quando si allontana e lo ricorda. E questo lo faremo con la strumentazione digitale che abbiamo e che avremo, un sito istituzionale, un'app che chiamiamo Digital Concierge perché sarà il compagno di viaggio del turista quando arriva in Veneto e gli farà scoprire soprattutto i territori minori e poi anche con della presenza fisica in giro per l'Europa, Monaco in particolare ma anche Lussemburgo, in cui incontreremo gli operatori del turismo e la stampa che è importante perché deve parlare per di noi, gli operatori del turismo sono coloro che compreranno i nostri pacchetti per rivendere ai loro clienti. È un bellissimo progetto perché serve per promuovere le eccellenze, la qualità, la cultura della nostra regione che è enorme, infatti abbiamo avuto adesso un incontro con tutti i partner del progetto che coprono tutte le province del Veneto, l'obiettivo è quello di commercializzare, di proporre fuori del Veneto prodotti, pacchetti turistici di queste imprese ma siccome lavorando con queste imprese finalmente siamo riusciti a creare anche un bel gruppo di imprese al quale possono aggregarsene in futuro delle altre l'obiettivo finale è quello di fare squadra, praticamente mettere insieme il sistema pubblico con quello privato e fare in maniera tale che con i fondi europei, perché questo progetto è finanziato da fondi europei c'è anche il cofinanziamento delle imprese ma ci sono fondi, possano crescere, migliorare le loro prestazioni farsi conoscere. Abbiamo anche presentato il progetto Digitour che è un progetto a finanziamento diretto dell'Unione Europea che serve per finanziare la digitalizzazione delle imprese perché per arrivare a questi grandi obiettivi uno dei sistemi è anche quello della digitalizzazione per trovare i bandi che scadono nelle prossime settimane basta proprio accedere al sito di www.venetiancluster.eu dove si possono trovare tutte le informazioni sui bandi Si è svolta domenica l'inaugurazione di Skink Shop, un nuovo studio di tattoo e piercing a Casale Sussile ma la caratteristica è l'idea del giovane imprenditore, tatuatore Matteo Guldotto che ha creato una rete di collaborazione professionale così all'interno dello studio è possibile anche farsi disegnare a mano le sneakers e tavole da skateboard con studio V-Shop Venice. L'inaugurazione è stata anche l'occasione per l'esposizione delle moto customizzate di MDM Garage ed è stato possibile anche farsi tatuare a fronte di un contributo volontario e donato poi a Young Lab, un'associazione di Marcon Questa era la nostra ultima notizia per questa edizione, a seguire le notizie di Padova insieme al nostro direttore Massimo Righetto. Con questo è tutto, grazie, arrivederci